Oh frate, frate, allora, mo mi devi accompagnare, questa qua mi chiama solo quando il ragazzo è la tua via, per favore. E appunto, quindi sai che sono a piedi, mi puoi accompagnare un attimo? Però magari qualcosa è... Qualcosa che è? Ancora me la devo fare io, tu subito, mi accompagni, poi ci parlo, fammi dire prima a me. Dai, andiamo, che cazzo. Amore, frate, allora, venti minuti, il tempo è salvo, ma la faccio? Comunque, era un mio desiderio trovare una ragazza come te, che mi chiama solo per... Oddio, dimmi amore, eh, sì sì, scendo subito, scendo subito, te ne devi andare. Dove sta? Basta. Oh frate, andiamo, che sta arrivando il cornucco. Oh, ma tu chi sei? Oh, mi devi scusare, hai la stessa macchina del mio amico, sono entrato, mi sono confuso, scusa, mi è disturbo. Oh, ma che cazzo fa? Oh, vallè. Sei imbrogliata la macchina, direi? Sì, no. Questo quando scopa non capisce più niente, eh. Mi sono fatta quella del secondo piano, la ragazza. Che dopo me la devo fare anch'io. Se la dovrebbe fare anche lui, non abita al secondo piano, Enrico. Ma chi, Nadio? Eh sì. Naccia miseria, che l'hai andato. Eh porco, se l'è ficcata pure qua insieme. Sicuramente, pure tu non la sei trompata, eh. Ficcata pure tu. Io sono anche i ragazzi, hai capito? E mi mi scatta la cazzo. Andrei, ma sei poveruto Ramona, Andrei. Cazzo, ne sappiamo che era lui il cornuto per caputare. Ma vaffanculo a mano. Ciao.